Presidente, è una responsabilità molto importante quella di assumere la presenza regionale di una associazione come quella delle Prologo. Sì, un impegno molto importante che è arrivato così all'improvviso perché diciamo che ci sono state le dimissioni dell'ex presidente e quindi io svolgevo le funzioni di vicepresidente quindi fino all'assemblea di sabato 8 luglio. Poi c'è stata la volontà di tutte e quattro le province per la mia candidatura e diciamo che io ho cercato di riportare l'unità all'interno dell'Umpia Abruzzo che mancava da tanto tempo, un'unità che purtroppo in questi anni non ha prodotto assolutamente nulla di utile e di buono per tutte le Prologo abruzzesi. Diciamo che la svolta è stata sostanziale innanzitutto nell'assemblea di sabato 8 luglio oltre che l'elezione del nuovo presidente abbiamo anche approvato il sistema dualistico che prevede praticamente l'inserimento della giunta esecutiva e con questo inserimento praticamente abbiamo ridato lo slancio giusto all'associazione in modo che in questa giunta parteciperanno tutti e quattro i presidenti provinciali e i due delegati nazionali. Quindi avremo diciamo che tutte le Prologo parteciperanno alla gestione dell'Umpia Abruzzo perché le Prologo attraverso il loro rappresentante provinciale quindi saranno rappresentate all'interno del Consiglio e avremo anche un contatto diretto con il nazionale attraverso i delegati nazionali. Rimarrà sempre la funzione del Consiglio regionale per quanto riguarda l'approvazione del bilancio consuntivo. Per tutto il resto cercheremo di dare importanza adesso al fare, allo stare insieme, all'organizzare cioè che praticamente è il motto delle Prologo. Noi abbiamo tanto da dare al territorio, abbiamo un impegno importante quello della promozione turistica, culturale, sociale e quindi lo dobbiamo fare tutti insieme e soprattutto non lasciando nessuno da parte perché in questo mondo sono importanti le forze e le risorse di tutti.